Non siamo partiti decisamente bene nei primi 20 minuti, devo essere sincero, era un po' quello che mi aspettavo nelle ultime tre settimane, ci siamo allenati un po' singhiozzo, un pochettino, però devo dire che una volta che hanno ritrovato un pochettino le misure abbiamo fatto una buona gara, credo abbiamo fatto degli errori abbastanza chiari e la Feralpi Salon non le ha sbagliate. Il secondo tempo secondo me un po' la Feralpi invece ha fatto noi e non siamo stati bravi invece a essere cinici come lo sono stati loro. Ho quasi sperato onestamente anche di pareggiare la partita perché poi ce la potevamo giocare in casa col Catanzaro per vincere la Coppa. Anche il terzo gol mi ha dato un po' fastidio perché secondo me si può evitare di perdere 3-1. Riuscivamo a pareggiare la partita che secondo me lo meritavamo nel secondo tempo perché siamo stati continui e ti dava la possibilità di giocarti in casa una partita, un ulteriore spunto per fare una bella partita col Catanzaro anche se dovremmo farla perché insomma ci avremo dato il nostro pubblico, sarà l'ultima partita dell'anno e vogliamo fare bella figura. Io ho un contratto però ancora devo essere sincero non c'è stato modo di parlare di nulla ancora. Io credo che poi finita la Supercoppa credo che ci sia modo di parlare di tante cose insomma però io ho un contratto che mi è scatulito dalla vittoria del campionato. Vedremo. Io sono felice, sarei felice di rimanere lo sanno perfettamente tutti quindi vedremo insomma.